Oggi vi presento il libro Arsenio Lupin, gli otto rintocchi del pendolo, di Maurice Leblanc, magazzini salani. Desiderosa di conquistare la bella e annoiata Hortense Daniel, Arsenio Lupin, sotto le mentite spoglie del principe Serge Renin, si impegna a risolvere otto misteri in sua compagnia. Tra omicidi, furti, rapimenti e segreti da svelare, senza rinunciare al suo inconfodibile humor, riuscirà l'affascinante scaltro ladro gentiluomo a compiere tutte le imprese scandite dai rintocchi di un'antica pendola e infine a vincere il cuore dell'amata? Ecco l'incipit. Queste otto avventure mi sono state raccontate tempo fa da Arsenio Lupin. Le attribuiva un amico il principe Renin, ma visti i modi, i metodi, i gesti, il carattere stesso del personaggio, secondo me è impossibile non confondere l'uno con l'altro, i due amici. Arsenio Lupin è uno spirito stravagante, capacissimo di sconfessare alcune sue avventure come di ascriversene altre di cui non è stato protagonista. Al lettore il giudizio. Questo libro è Arsenio Lupin, gli otto rintocchi del pendolo, di Maurice Leblanc, magazzini salani.